Una nuova edizione di Ussi Sicilia, i primi dell'anno. Sì, inizia il conto alla rovescia, saremo pronti a breve grazie anche alla tua straordinaria collaborazione che è poi determinante, quindi definire la collaborazione mi pare anche riduttiva, tu sei un mastro di festa come sul dire dalle nostre parti e conseguentemente ci attiviamo intanto a partire dalla location la splendida Acirale, splendida innanzitutto perché la città che mi è dati ai Natali e poi via via anche perché effettivamente è una bella città. Dietro di te? Dietro di me si vede la costa calabrese, nonché il mare di Santa Maria la Scala, una delle località più suggestive della nostra isola. Quindi vi aspettiamo tutti quale giorno? Eh, fra il 13 e il 14 maggio, nel senso non l'uno o l'altro ma entrambi, un giorno una cosa, un giorno un'altra cosa. Grazie a tutti.